... Voi che siete una nuova generazione, guardate i fatti, leggete, informatevi, non prendete per garantito niente, non credete a niente di quel che vi viene raccontato, fatevi la vostra verità, una in cui potete credere e a cui potrete dedicare la vostra vita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.